L'attuale Basilica di San Petronio non è che un braccio di quella vagheggiata dall'originario progetto, uno dei più folli e ambiziosi del Medioevo che voleva la Chiesa, intitolata al Patrono di Bologna, addirittura più grande di San Pietro in Roma. Il Vaticano sventò questo attentato di lesa maestà, ma San Petronio, con i suoi 132 metri di lunghezza, 57 di larghezza e 44 di altezza, resta la quinta chiesa più grande del mondo. Progettata da Antonio di Vincenzo, fu iniziata nel 1390 e conclusa quasi tre secoli dopo. L'imponente facciata è compiuta solo a metà. Vi si avvicendarono architetti famosissimi, da Baldassarre Perruzzi al Vignola, da Giulio Romano al Palladio. L'oscuro paramento in mattoni grezzi contrasta con le candide superfici in pietra d'istria, intervallate da lastre in marmorosso di Verona, in cui si incastona come un gioiello il portale di Jacopo della Quercia. Questi sviluppò in dieci rilievi marmore e altrettanti episodi della Genesi. Le diciotto formelle delle strombature e le cinque dell'architrave riportano, rispettivamente, immagini di profeti e storie dell'infanzia di Cristo. La lunetta racchiude un gruppo di tre figure, che ha come perno la dolcissima Madonna col bambino, dalla veste che si dispiega in un sontuoso panneggio. Ai due lati la inquadrano San Petronio, col modellino della città, e Sant'Ambrogio, quest'ultima opera di Domenico da Varignana. Anche Michelangelo realizzò un monumento bronzeo per la facciata, purtroppo ora scomparso. L'interno gotico è scandito da slanciati pilastri a fascio, che lo dividono in tre ampie navate con 22 cappelle laterali. Queste sono impreziosite da grandi dipinti, come il San Rocco del Parmigianino, o da meravigliosi cicli affrescati, come quello che Giovanni da Modena realizzò tra il 1408 e il 1420 per la cappella del mercante di sete Bartolomeo Bolognini. Nelle raffigurazioni del paradiso, dell'inferno e del viaggio dei magi a Betlemme, egli sprigiona una favola profana, ricca di movimento e colpi di scena o in tessuta di gotiche fantasie dantesche. La tribuna del Vignola, del 1548, chiude la prospettiva della navata centrale. Poco lontano, il quattrocentesco compianto su Cristo morto, in terracotta policroma, è una delle prove più interessanti di Vincenzo Onofri. Tra le curiosità, l'organo del 1475, il più vecchio al mondo ancora in uso, e la meridiana nel 1665, realizzata su quasi due terzi del pavimento dall'astronomo Giandomenico Cassini, è guardata con stupore e ammirazione da tutti i viaggiatori del Grand Tour. Simbolo dell'orgoglio civico, San Petronio, dove fra l'altro nel 1547 si svolse il concilio di Trento, rimase a lungo una chiesa laica. Proprietà del comune, che nei secoli ne fece luogo di cerimonia e ritrovo pubblico e tribunale, passò alla diocesi nel 1929, in seguito ai patti lateranensi, e dovette aspettare fino al 1954 per essere consacrata.